Devo dire che Dubai mi ha fatto un effetto strano, inizialmente non ne sono andato matto, poi ogni volta che ci sono tornato ho apprezzato stranamente sempre di più questa città. L'effetto di, dalla prima volta che sono andato a Dubai, che non mi era piaciuta chissà cosa la città, man mano che passava il tempo, tuttora, trovo Dubai sempre migliorata, mi trovo sempre meglio. E infatti tra l'altro una delle città del 22-23, che mi è piaciuta di più, penso che nella graduatoria entrerà Dubai. Poi un altro grande problema di Dubai è l'aria e l'inquinamento, l'Air Quality Index lì è sempre sopra i 150. Qui la grande cosa che ho scoperto è che fortunatamente la qualità dell'aria di Dubai va a quartieri, quindi bisogna andare a vedere la zona, dove siete, quanto verde c'è, e in base alla zona, anche perché fa ridere, ma Dubai non è completamente flat, non è completamente pianeggiante, ci sono delle aree che sono un po' più inalzate. In quelle aree di solito l'aria è migliore, nonostante comunque mediamente faccia schifo rispetto a tantissime altre città, cioè rispetto a Madrid. A Madrid si respira meglio, ma se vivete nella pianura padana non state respirando buona aria, detta in modo molto veloce, cioè la pianura padana in Italia è totalmente da evitare. Cioè se mai doveste riuscire a provare a fare un volo da Milano, Venezia, Bologna a Madrid, l'effetto che ho io è esco dall'aereo e dico cazzo se si respira qua, idem Dubai, Madrid. Però in ogni caso se dovete andare a scegliere il luogo dove stare a Dubai vi consiglio di andare ad approfondire un po' la qualità dell'aria prima di scegliere, perché comunque a lungo termine pesa sulla nostra salute e l'area che ho scelto io, Dubai Hills, è un po' più rialzata rispetto al resto della città. Si parla di decine di metri, non centinaia di metri, cioè non è che siamo in collinetta. Siamo magari al posto che essere a livello del mare o 5-10 metri sul livello del mare, sei a 30, 40, 50. Però l'effetto di avere quei pochi metri di differenza cambia le temperature e fa ridere e cambia anche la qualità dell'aria. Ovviamente comunque si parla sempre di un luogo dove la qualità dell'aria non è infinita. Però con l'effetto di macchinette che ho messo per esempio nell'appartamento, tipo questa qui che è in Italia, i filtri dell'aria funzionano. Il grande vantaggio di Dubai, oltre al regime fiscale di cui ho parlato in diversi video, è la connessione internazionale. Dal suo aeroporto puoi arrivare praticamente ovunque e di tutto fa arrivare nella città qualsiasi tipo di servizio e tecnologia. Questa cosa in realtà nell'annata 21-22 non ne ho approfittato molto del fatto che Dubai comunque fosse molto comoda per i viaggi, perché alla fine in quell'annata ho viaggiato molto nella sfera europea. Quest'anno invece che ho abbattuto molto di più Asia e Oceania, ho fatto un viaggio da poco in Nepal, sono andato alle Maldive, ho fatto Seoul e ho fatto anche Bali. Ho finalmente approfittato delle connessioni di Dubai ed è assurdo come per esempio il volo per le Maldive, andata e ritorno l'ho pagato 230 euro e viaggiavo con Etihad, non viaggiavo con compagnie iper economiche. Perciò questo l'ho notato molto di più quest'anno rispetto all'anno scorso. Mentre per quel che riguarda i costi, tutti pensano che Dubai sia estremamente costosa. In realtà non è così, il range di prezzo di Dubai è amplissimo. Si parte letteralmente da zero e si arriva ai miliardi in base a quello che cerchi. Cosa che ho detto anche prima, è un sito che può essere utile è Numbeo, però per città dove il minimo e il massimo di costo sono così differenti, anche questi siti qui danno poche informazioni, nel senso che si prende la media, però la media non dice effettivamente com'è il costo della città. Soprattutto poi vivendoci dentro, perché se una persona ci vive dentro inizia ad imparare dove andare a comprare le cose, dove risparmiare, cosa fare, quindi c'è anche quello da dire. Per concludere, se devo scegliere uno tra tutti i pro e devo dare un premio a Dubai, è quello della sicurezza, non ha paragone. Il livello di tranquillità di questa città è ineguagliabile, puoi lasciare la macchina aperta e accesa e stare sicuro che da lì, a meno che tu non lo voglia, non si muoverà. Verissimo, e nell'ultimo anno e mezzo il discorso sicurezza Dubai e il resto d'Europa, dopo tutto quello che è successo anche con guerra, recessione, se così si può chiamare, e inflazione, questa cosa della sicurezza si sente sempre di più. Guardavo proprio l'altro giorno il video di uno youtuber che denunciava il fatto che gli sono entrati nel magazzino a rubargli tutto, ed era mi pare o in Norvegia o in Polonia mi sa. E sentendo anche esperienze di amici in giro per l'Europa e anche in Italia, mi rendo conto sempre di più come la sicurezza sia importante, per dirla in modo breve. Cioè io qui a Padova non ci faccio neanche caso, però quando inizio a sentire storie dico cavolo però, cioè è questa la situazione, è questa la realtà, e io a volte non ci credo, cioè io reputo l'Italia un paese sicurissimo, però quando effettivamente vado a guardare i dati, anche statistici, non c'è paragone nei confronti di una città come può essere Dubai. E questo, con tutto quello che sta succedendo globalmente, è un punto che io pensavo di non dover nemmeno toccare, però effettivamente è iperimportante. Cioè il discorso è non ci fai caso finché non ti succede qualcosa. A me fortunatamente, e mi tocco, non è successo ancora niente di tragico, di furti, rapine e cose di questo tipo. Ma anche semplicemente andando a Barcellona e riprova il video che abbiamo fatto con il mio amico Yaki, dove ci siamo fatti rubare lo zaino, è un qualcosa che va considerato. Poi per carità, io sono anche, e non voglio generalizzare o rendere razzista, sessista al commento, io sono anche un uomo bianco alto 1,90 m. Diciamo che non sono anche preda facile di furti, rapine. Però, cioè, se mi trovassi in un'altra situazione, andrei a pesare ancora di più questo discorso qui. Però vabbè, è un discorso che possiamo approfondire quanto volete. Cosa che ho notato, per esempio, viaggiando per l'Indonesia, la grande differenza riguardo la sicurezza sta anche nella religione. Per esempio, in paesi dove si pratica il buddismo, mi pare, e quindi dove credono nel karma, la sicurezza aumenta vertiginosamente. E questo l'ho provato di persona, per esempio, viaggiando in Thailandia. E, cosa che mi hanno anche detto lì in loco direttamente, la Thailandia è un paese relativamente sicuro. Poi bisogna andare a vedere i dati, perché io queste cose le sto dicendo per sentito dire, e non con i dati alla mano. La Thailandia, per esempio, è un paese, da quel che mi hanno detto, dove è sicuro il viaggio anche per le donne. Come magari l'India no, per esempio, perché cambia la religione. Però questo qui è sempre un sentito dire, che però l'ho notato. Cioè, in Thailandia non mi sono mai successe cose spiacevoli. In Nepal, per esempio, mi sono sentito molto più preso di mira. Nonostante lì ci sia sempre un misto, un 20% buddismo, 80% induismo, da quel che ho capito. Però sentivo che dovevo prestare più attenzione alle mie cose. Cioè, come una percezione che viene dal dentro. Però non lo so.